Sean, la pecora più divertente del cinema, torna con un nuovo film d'animazione. Sean vita la pecora Farmageddon, realizzato dagli studi Hardman, la factory inglese che ha già creato successi come Wallace Gromit e Galline in fuga. La pecora libera e indipendente che ama agire fuori dal gregge, è popolare grazie al primo episodio cinematografico e alla serie TV. Una delle Spice Girl, Baby Spice, ha indossato lo zainetto che riproduce la simpatica pecorella, consacrando la star dell'animazione. Oggi Sean ha 5 milioni di fan su Facebook. Il nuovo film Farmageddon, omaggio divertente al cinema sugli extraterrestri, in uscita il 26 settembre in Italia, immagina l'arrivo nel villaggio di Campania di Mossingham di una piccola aliena precipitata sulla terra, inseguita da una lusca agenzia governativa. Sean cerca di aiutare la creatura extraterrestre a tornare a casa con avventure divertenti. Il cartone animato tratta il valore dell'accoglienza e viene proposto in questi giorni ai bambini che frequentano alcuni dei punti luce dell'organizzazione Save the Children, centri educativi nei quartieri privi di servizi delle grandi città. Il film appassionerà e divertirà il pubblico dei ragazzi e tutti gli ammiratori della comicità surreale e dell'animazione in stop motion degli studi Hardman. I personaggi sono modellati in plastilina, ispirandosi ai gesti degli stessi animatori e filmati su set in miniatura con una tecnica sempre straordinaria.